Cosa ti hanno detto i amici e i parenti quando hai deciso di iscriverti al liceo classico musicale? Saremo costretti ad ascoltarti suonare tutto il giorno. Ma sei sicuro? Ho tutta la convinzione che iscriversi al liceo significhi per forza significare il proprio tempo lì. L'Iceo Petrarca, sia nei suoi indirizzi di classico e musicale, può essere una scuola molto fedele alla sua tradizione di grande formazione culturale. Ma si sta anche rinnovando, cercando di introdurre nuove competenze che si aprono al mondo e anche ai piani formativi europei. E per questo cerchiamo di introdurre percorsi nuovi che diano più spazio alle materie scientifiche, ma soprattutto alle lingue. E invece tu cosa diresti a chi sta pensando di iscriversi? Scelte che migliore che potrebbe fare attualmente. Tanti complimenti per la scelta. È un'esperienza ripetibile. Potrai studiare cosa fai? Hai hobby o impegni? Tantissime cose che proprio la scuola mi da approfondimenti. Sì, faccio sport, faccio leggere, mi piace andare a sentire i concerti, vedere i film. Gioco qua a lavoro a livello agonistico, suono una chitarra nel trampolino. Cosa ne pensi dell'ambiente della tua scuola? Siamo sempre sentiti come una grande famiglia. Una piccola grande famiglia. Conosciamo tutti e questo aveva aiuto anche nei momenti un po' di bassa, ecco, dello studente. La scuola è meravigliosa. Ci si conosce tutti, siamo una grande famiglia. Il liceo Cambridge è una caratteristica dei licei di eccellenza. Poter studiare anche col syllabus della scuola inglese, della scuola secondaria inglese. Il syllabus del liceo Cambridge vuol dire affiancare alle caratteristiche tradizionali della nostra scuola un modo diverso di approcciarsi allo studio e al lavoro. Un modo, diciamo, più al passo con i tempi. Un modo internazionale di studio. Legite o progetti interessanti? Corsi, concerti. La squadra di matematica. Noi abbiamo fatto il FAI per tutti i tre anni del triennio. Questa iniziativa, qui, in questo video, è stata fatta dagli allievi. Scrivi il tuo liceo con una parola. Spaziale. Magico. Cultura. Famiglia. Sono al liceo Petrarca. 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 Noi siamo il liceo Petrarca.